Moratti non era contentissimo di Simoni e prima della finale di Coppa UEFA contro la Lazio a Parigi nel 1998 esce fuori una notizia sul Corriere dello Sport che Moratti ha incontrato Zaccheroni per sostituire Simoni. È una notizia vera, io ce l'ha detto stampa, non la sapevo ma poi la verifico ed è vera. Quando questa notizia viene saputa da Simoni, non da me ma da lui, la viene a sapere che poi nel mondo del calcio si sanno sempre tutte le cose, la sa proprio il giorno della finale di Coppa UEFA e nel discorso alla squadra in cui dà la tattica, i calci piazzati, i corner, le punizioni e gli undici titolari, gli dice anche una cosa, guardate Moratti il vostro presidente ha preso un altro allenatore, questa probabilmente sarà per me l'ultima partita, fatemi sto regalo, giocate per me. Ecco, una partita come quella lì, i ragazzi magari la ritrovano su Youtube, vedete dal primo all'ultimo minuto ci sono undici giocatori più quelli che entrano che giocano proprio per l'allenatore.